e pura video ragazzi benvenuti nuovamente su alan wake 2 continuiamo dove l'abbiamo lasciato qui nella stazione di caldera abbiamo fatto un po di tribulanti giri ma abbiamo la pistola abbiamo la torcia e abbiamo un destino da seguire quindi facciamolo spero vi stia piacendo la serie ragazzi se è così vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto mettete un bel mi piace per dare coraggio a me e a alan wake e non cagarmi tanto addosso vi serve la vostra energia per poter andare avanti ragazzi via da qua te ne vai grazie andiamo a vedere beh siamo sicuramente questo è il posto giusto quindi guardiamo di là allora cattivo così esatto non va bene lasciami stare non c'è ok eh spreco di batteria perfetto grande se bitos il migliore via allora vedi qua non facciamo i coglioni luce mia presumo affanculo gioco sicuro che ho pensato anche a me e culati qua siamo sicuri alan non te ne frega niente quello che succede fuori tranquillo nazareno approfittiamo e salviamo sapevo potremmo andare avanti qua fino al nel prossimo nel episodio prima ma sapete che noi qua facciamo le cose male o non le facciamo e niente no andiamo così quella scatolina non si apre anche se sembrerebbe bello ampio il posto devo dire molto è andato di là un momento ok quindi presumo che dobbiamo fare la cosa più brutta del mondo che è fare il giro no quanti oggetti potrebbero esserci alan secondo te pochi vero eh eh guarda parola d'aiuto trovata aumenta l'area d'effetto della bengala l'efficacia delle bende penso sia importante quando uscirà la bengala quindi penso sia un'arma importante visto che c'è un perk tutto suo io avevo detto che nelle metro non venivo più da quando ho giocato metro 2033 ma eccomi qua no ok qua c'hai luce da poter mettere ok interessante ricordiamocelo ragazzi anche se penso che magari è la strada proprio giusta da dover seguire la sangue ti guido è alla morte o o è la nostra amica quella luce deve essere mia anche qua l'agente è scomparso l'agente è scomparso l'agente è scomparso l'agente è scomparso ok certo no va bene mi stanno già mettendo nella merda intanto io bevo per me eh sì io non sono non c'entro niente io e allora posso tornare indietro però lavagna della trama un secondo ok allora se torno indietro sarà cambiata la zona della luce questa qui a destra no ok cambiata non così tanto allora find alice prova alice prova alice beh allora dritto per dritto ragazzi non ci complichiamo tanto qui è che si sta grattando allora l'unico punto dove so che devo mettere la luce è di là quindi mi fa pensare che è là per forza che va secondo che qua sapete che bene bravissimi piglia proviamolo eccolo 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 c'era quasi signora signor graffio poi riscrivi la realtà solo in una scena solo in una scena in cui ti trovi ok ho una pista ma non è qui esatto per evitare di farmi individuare da chi eh non è funzionato capo non ti vedo dove sei ma dov'è stai fermo se tu mi dici tenere la luce spenta così non ti individuano ok se così tu dici io così credo proviamo a guardare qua non credo sia ma no è cambiata di là adesso no secondo però Alan dobbiamo fare una cosa importantissima io e te prima di fare qualsiasi cosa dobbiamo andare a vedere cosa c'è qua sotto esattamente lì perché abbiamo visto che le parole del potere ci piacciono l'acqua non c'era più esatto bravissimi altro esattamente c'è un'altra qui ragazzi approfittiamola beh è stata incredibile questa la domanda è canticchia chi è ancora qua lo foglione di prima vorrei la mappa questa è la mappa grande siamo in numeri 1 va a vedere sono qua diamo un'occhiattina così veloce ragazzi qua dove eravamo qua c'è qualcosa canticchia però perché deve essere così ampio sto posto dove siamo di nuovo andiamo su no giusto per vedere penso sia di nuovo ho trovato il signor d'oro e lo schizzo sembra familiare giusto pensi che sia un sogno quindi pensi che questo è un sogno non mi racconto non mi racconto i miei sogni sempre sono incredibili vivi ahah si sentono reali fino alla seconda quando mi riusco nei sogni sono sempre qualcuno una persona differenta con un nome diverso vivendo una vita diversa in un mondo diverso si sta fastidio così sta zitto se faccio così no basta è fatto un'altra mappa vediamo cosa hai fatto di diverso che cos'è questo posto un sogno non sembra reale nessun nessun luogo ogni luogo tutti i luoghi in qualsiasi luogo ora New York come posso door è il guardiano ora vuole arrivare a qualche parte ovunque door cancello portale porta apertura acceso finestra tranquillo non c'hai qualche munizione che ti avanzi no mi piace la pizza Tim vedo posso notare vuoi dirmi qualcosa fa un culo per andare qua c'hai roba per me minimo tu dormi qua beh dai c'è chi dorme in posti peggiori eh Tim dai non ti vergognare oh dammi qua basta per due battenti vabbè team cosa hai dato cosa mi hai trovato però oh stia mi hai trovato le cose importanti però allora qua c'è qualcosa per noi siamo ok ok interessante molto interessante investivativo investivativo di quello che pensavo vediamo se li metto qui dove sono se io vado dritto a sinistra o qualcosa andiamo a vedere sembra strada sembra strada chiusa obiettivamente quindi eeeh mi affanculo sai no non permi il cazzo fa col culo a te ah fa lo spiritoso sai a casa mia bastardo maledetto eppa quelle cosa sono ah no tronzo io pensavo me le avesse separate perché non erano uh abbiamo trovato un posto da si adesso vi ascolto Sì Sarà Casey credo che intenda E si apre adesso no Allora salvataggio manuale Così Se ve lo domandate sì sto filmando tutto insieme Perché mi sto abbastanza intrippando col gioco E mappa ragazzi Ho visto una scalinata che va su Che ci darà da qualche parte Scopriamolo Sembra tutto secondario Ok il treno La bagna dell'oschema aspetta che secondo me Cambia in base a cosa dico? Si ti è? Vaya Balazzo che te comiste Niño Dov'è 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 dov'è? Ce l'ho quasi Devo ancora capire la teoria per Inquadrare e che sia giusto Eccolo Ma lei è saga Solo che non la vediamo Può essere Giustamente ma calmo Prima vediamo cosa c'è in questa scena Tipo questa po' L'ho visto Perfetto Strano deragliato La gente è scomparso Mi stai dicendo che ogni zona Cambierà in base a Cosa scelgo io? Che figata Ma sti cazzi Ogni posto bisogna guardarlo mille volte adesso Ok quindi qua è per forza No Ma inculato E Setta un missile No Portatore di luce Adesso è aperta? No è sempre chiusa Però Ossia è cambiato Forse non ci sono più i treni Esattamente Esattamente Diceva la mappa Dietro di me Dietro di me Vabbè C'è quella zona lì sotto Lo posso Sì sì lo so lo so Alan Tai calmo ma bisogna che capire se c'è qualcosa di Figo Perché di qua io posso andare Ma perché voglio andare? Questo lo voglio No Non ci sono Non sono qui E come fai? Non sono qua Ehi culati Non mi vedi Bastardi E ok Andiamo Ah siamo tornati al posto Al safe Al safe La safe zone Ok allora Approfettiamo Lavagna Abbiamo detto No Qui è esso qualcosa di terrificante Cosa vuoi dare alla lavagna? Cerca la setta Ok Vabbè Non ti serve Stare qua Vabbè Salvataggio manuale Salviamo E Boh Non è vero Non sono io Vai via Aiutami No no ma continua a cantare Bastardo Sai Mi vede Smette Vabbè No Dicevamo che tutta sta zona era secondaria per noi Adesso voglio capire una cosa Tunnel crollato Se io mettessi portatore di luce cambia qualcosa Oddio Si Basta È solo una pista Questa Un segreto per loro che sapevano Chiaro Chiaro Continuiamo di qua no Interpreto No No Wake Non c'è Alan Wake No non c'è Alan Wake Non mi vedi O sei più difficile da vedere Importante No Mangia Ah un momento no Questa l'ho tolta io Uh un momento Confusione adesso Ma non c'è nulla Allora mi sa che dal bomb bisogna tornare indietro Sapete Mi sa di sì No non è vero Ma non sono io Non sono io Che mi stare va Mi sa che allora dobbiamo tornare indietro E obiettivamente passare da di là Tunnel crollato No Quante storie abbiamo adesso Portatori di luce qua abbiamo Abbiamo portatore di luce Qua non abbiamo ancora messo niente Però Potremmo andare a guardare No non credo Allora Se qua c'è questa È perché dobbiamo andare di qua Per forza Quindi andiamoci E vediamo cosa possiamo fare da di qua Perché Effettivamente Il fischiatore è qua No 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 Non sono io Molla meno rompere il cazzo Allora salviamo di nuovo La scala è ancora lì Quindi usiamola Dobbiamo trovare la setta Diamo un'occhiattina In giro Aha Minchia Aia Ma che culetto Che hai fatto su Questo si muove Però Lo sapevo Lo sapevo Mucha Caglie Dai Sto aspettando lo screamer Da troppo Sono agitato Lo so io che arriva Non c'era Non c'era veramente Non c'era Non c'era Caglie 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 Hai ragione Il mana Lasciami Oh La musica È Sì Focco All together Perché Oh Centra le porte Alan Dai Giù È qua Amigo Mi Ah ok Solo Ok Perfetto Allora ci siamo Ci siamo Ci siamo Andiamo giù E a breve Direi che Lassiamo l'episodio qua Appena capiamo Dove cazzo siamo E cosa sta succedendo Però Eri sicuro che la lavagna Avesse i pezzi Che cercavi E tu mi stai dicendo Che la lavagna Siamo tornati indietro Giusto Non mi vedi Ah tu mi vedi Vai A balasso Che ti è commista No Giù Basta Basta eh Non me lo aspettavo Tutto Tutto Quante Cazzo Di Spero Non si senta Il trappano Ragazzi Se è così Vi chiedo scusa Già da adesso Allora Dove sono io Adesso Qua Io Non posso Cambiarlo Qua però Dove siamo Allora intanto apriamo Apriamo questi Oh dammi qua Carica Alan Che non sei Velocissimo A caricare Non siamo Tornati Non siamo Tornati indietro Tutto sommato Comunque Può sembrare Di sì Ma la realtà È che No Momentaneamente No Andiamo a vedere Lui ce l'ha con sta lavagna Ma obiettivamente Avanti Stiamo andando avanti Hai ragione anche te Ma fermo tutto La luce ti avrebbe aiutato Ok Sì Giusto Non prima di vedere Vai Mi sa ragazzi Che salviamo Lo lasciamo qui Perché non mi piace Quello che sta per succedere Quindi Salviamo Lasciamo l'episodio qui Quindi dico Un pura vita Spero vi stia piacendo La serie E così Ricordate Dategli un po' di amore Con un bel mi piace Commentate anche ragazzi Ditemi cosa ne pensate Se magari Mi sto saltando qualcosa Siete pregati di dirmelo Che non si sa mai Vi dico un bacione Comunque E ci vediamo in un prossimo capito Di Alan Wake 2 Ciao ciao